Sono Filippo Gasparini, la società che rappresento è la Gasparini S.p.A., una società che da molti anni è socio Ucimu. Abbiamo creduto nell'associazione perché pensiamo che il livello di contaminazione e di dialogo tra i vari associati possa portare a una crescita dell'impresa e questo posso anche testimoniarne come verità perché ho imparato moltissimo colloquiando con i miei colleghi.